Nata per essere uno dei cavalieri modi e principi di odierni giustizieri per far valere diritti e ragioni in un mondo che vuole sopprosi e oppressioni e purtroppo si cede senza poter replicare mai credo in quel che faccio e lotto con chiunque sia corrotto sono sempre l'angillotto dopo tutto sono qua siamo cavalieri in forma nella tavola rotonda addestrati a diventare Kingsman non faccio parte di caste eppure son qua sempre maltrista e derisa per la mia umiltà ma sono un cavaliere d'onoro principi e la fede che faccio valere il valore risiede in ogni mia azione da buon cavaliere credo in quel che faccio e lotto con chiunque sia corrotto sono sempre l'angillotto dopo tutto sono qua siamo cavalieri in forma nella tavola rotonda addestrati a diventare Kingsman sono sempre l'angillotto sono sempre l'angillotto